La politica attesa per l'inizio delle consultazioni mercoledì al Quirinale. Di Maio si dice pronto alla sfida del Governo. In settimana l'incontro con Salvini che rilancia un esecutivo di centrodestra. Opposizione responsabile, la linea del PD. Francesco Maesano. Pasquetta di attesa per la politica. Al Quirinale, da mercoledì, per quello che potrebbe essere il primo giro di consultazioni, arriverà la fotografia dell'impasse uscita dalle urne del 4 marzo. I 5 Stelle insistono nel chiedere per Luigi Di Maio Palazzo Chigi e cercano convergenze sul programma, a partire dal taglio ai costi della politica e dall'introduzione del reddito di cittadinanza. Ma è porta chiusa Silvio Berlusconi. Vogliamo andare al Governo del Paese con Di Maio Premier per contrastare la povertà, garantire un fisco equo, la sicurezza dei cittadini, il loro diritto al lavoro. Sul blog intanto tornano sul tema terrorismo. Le attuali misure non basteranno. Avvertono che occorre governare adeguatamente i flussi migratori. E in settimana incontro con la Lega.